Con questa breve lezione proviamo ad occuparci di un episodio mediano che ci aiuta a comprendere il passaggio tra il nostro ultimo argomento trattato, che era quello del romanticismo, e il nostro prossimo grande argomento da trattare, che è quello del realismo. Mi riferisco alla scuola di Barbison, una serie di artisti tra i quali il più significativo sarà Jean-Baptiste Camille Corot e che si occuperanno in particolare della pittura di paesaggio, fondamentale perché la rappresentazione del paesaggio autonomo costituisce uno dei traguardi più significativi della pittura occidentale, cioè il raggiungimento, un punto di svolta fondamentale perché nel corso della storia, come vedete da questa slide, noi ci siamo imbattuti tante volte in rappresentazione del paesaggio. Quello che ci interessa però è cercare di capire perché questi paesaggi venivano rappresentati, in che modo venivano realizzati e per quali finalità. Le immagini che voi vedete, che partono dalla rappresentazione della città costiera di Acrotiri, quindi siamo in ambito addirittura cicladico per passare alla villa di Livia di Prima Porta, in ambito romano, al Medioevo degli effetti del buon governo in campagna di Lorenzetti, alle rappresentazioni del palazzo del buon consiglio di Trento e addirittura quella piccola cartolina che abbiamo messo in alto a destra con la decorazione a fresco del palazzo farnese a Caprarola. Sono tutti episodi nei quali il paesaggio non rappresenta semplicemente se stesso, cioè ha una funzione che può essere una funzione simbolica, che può essere quella di essere una porzione di un dipinto più grande, un fondale per scene di altro genere, battaglie, processioni, o comunque rappresentazioni simboliche, allegoriche, che ne so, per esempio lo scorrere del tempo, le attività stagionali, oppure le cartoline, come vedete appunto in Palazzo Farnese, dove si rappresentano le proprietà di una famiglia, in questo caso i feudi della famiglia farnese, ma in altri casi per esempio le proprietà di acquisizione di uno stato, di una nazione, di un comune a seconda del periodo. In ognuno di questi casi si tratta sempre e comunque di paesaggi abitati, dove il paesaggio non rappresenta se stesso, la natura non rappresenta se stessa, ma ha una funzione diversa. E noi ci siamo occupati proprio nelle nostre ultime lezioni, parlando di romanticismo, dell'idea del paesaggio universale, della natura universale. Abbiamo detto che il romanticismo dà grande importanza al paesaggio, ma anche in questo caso il paesaggio non è un paesaggio a sé stante, rappresenta il paesaggio dell'anima, il paesaggio cioè viene piegato alla necessità di rappresentare i sentimenti umani, le passioni, e quindi in qualche modo anche in questo caso non si tratta di paesaggi autonomi. Ora, ovviamente la scuola di Barbizon è interessante proprio perché, pur essendo, da un punto di vista cronologico ancora perfettamente inserita all'interno del romanticismo, già anticipa tutta una serie di temi che saranno tipici del realismo e poi diventeranno fondamentali per l'impressionismo. Prima di ragionare su questa scuola di Barbizon e su quello che sarà l'anticipazione sul realismo e sull'impressionismo, proviamo però a ripercorrere brevemente passaggi salienti di questa evoluzione secondo il percorso che abbiamo affrontato nel corso di quest'anno e dell'anno precedente, quindi a ritroso nel tempo, partendo dal 600 francese e olandese, che saranno importanti, abbiamo visto per esempio per Constable e quindi per il romanticismo inglese, importanti perché proprio c'è una rappresentazione della natura che non è centrale, perché in entrambi i casi, sia quello di Lorraine che quello di Poussin, noi vediamo in primo piano la centralità dell'uomo, la perfezione dell'uomo e il paesaggio che fa da sfondo idealizzato in qualche modo alla centralità dell'uomo, quindi alla rappresentazione mitologica o storica, però questo paesaggio pur essendo uno sfondo, uno sfondo di grande importanza e di grandi dimensioni, comincia ad avere una sua dignità, elemento che noi avevamo già trovato all'inizio del 600 a Roma con Annibale Carracci, con questa sublime fuga in Egitto, dove la fuga in Egitto è poco più che un espediente per la rappresentazione del paesaggio che in qualche modo avvolge questa scena. Abbiamo detto che questo lo possiamo considerare il prototipo dei grandi paesaggi lirici, ma se rimontiamo ancora un secolo prima possiamo arrivare a tutti quegli episodi che abbiamo definito da Giorgione e da Castelfranco episodi di giorgionismo in cui il paesaggio avvolge le figure che gli stanno intorno e diventa preponderante rispetto alle scene considerate principali. In questo caso abbiamo un San Giorgio e il Drago che vediamo diciamo sullo sfondo a destra che non solo non è preponderante rispetto alle due figure in primo piano che non sappiamo cosa rappresentino nello stile tipico diciamo di Giorgione, ma che è assolutamente secondario rispetto appunto alla rappresentazione della natura del paesaggio, di questo paesaggio così caldo e così avvolgente. Ecco, tutto questo era stato fondamentale per una visione della natura che avesse un'importanza autonoma rispetto alle figure umane, una natura comunque ancora abitata ma che avesse una sua importanza. L'abbiamo visto durante il pre-romanticismo, il romanticismo l'abbiamo visto ancora prima per esempio nella pittura del Regno Unito, per esempio con Thomas Gainsborough e poi appunto dicevamo nel romanticismo con Costable. Ma sia Costable che Turner che danno grande importanza, abbiamo detto alla natura, però danno un'importanza alla natura di un tipo specifico, cioè c'è la ricerca del pittoresco, c'è la ricerca del sublime, cioè c'è la ricerca di qualcosa che pieghi la natura, che utilizzi la natura non tanto come un fine ma come un mezzo per la descrizione di qualcosa di diverso, cioè per la descrizione del sentimento che è legato alla natura. E questo è il punto, diciamo, di rottura nel quale si inserirà la scuola di Barbizon. Quello che ci interessa oggi appunto è proprio la scelta dei Barbizonier, che si dicono così proprio perché si ritrovano in questo luogo che si chiama Barbizon, la scelta di rappresentare il paesaggio per rappresentare se stesso, cioè il paesaggio rappresenta se stesso, la natura rappresenta se stessa, con due scelte fondamentali che sono chiare, evidenti e che guidano il lavoro di questi artisti. La scelta di fuori al centro dello studio del pittore la luce e il colore, la resa del paesaggio in sé, quindi il paesaggio del protagonista dell'opera. Non ci sono aspetti di amplificazione emozionale che sono tipici appunto dello studio del sublime e da un altro punto di vista del pittoresco, per quello che riguarda per esempio la memoria, l'evocazione. E anche quando c'è la figura umana, questa figura umana rimane comunque marginale, una presenza marginale rispetto al paesaggio. Il secondo punto fondamentale è la scelta di rappresentare la natura in maniera veritiera, realistica. In questo senso seguendo le indicazioni di Constable, cioè non si cercano gli effetti transitori di luce che cercano in qualche modo di amplificare, di dare emozionalità al paesaggio stesso, non si cercano quegli effetti lenticolari, non si cerca un paesaggio per l'appunto pittoresco. Si rappresenta quello che si vede così com'è. Da questo punto di vista appunto si parla di pittura sul motif, sul motivo en plein air, cioè una pittura che si rappresenta all'aperto, rappresentando, mettendo sulla tela ciò che si vede. Da questo punto di vista la scuola di Barbison è l'ideale tra le unioni, il punto di contatto fra questi due mondi, quello del romanticismo che vedete rappresentato nell'immagine e in alto alla vostra sinistra, e quello del realismo in alto alla vostra destra, perché mentre da una parte è una tendenza alla rappresentazione di una natura che è spinta in chiave emozionale, quindi un eco del sentimento umano, la natura nello sconvolgimento, il terremoto, la tempesta, tutto ciò che è troppo grande o troppo sublime per l'appunto, mentre invece dall'altra parte, nel mondo del realismo, io troverò una tendenza a una pittura più veritiera, ma che comunque dà una funzione specifica anche alla natura, perché la pittura del realismo ha una funzione di, spesso, di chiara denuncia sociale e di denuncia storica. Di conseguenza la natura, pur essendo realistica, viene scelta per rappresentare determinati concetti, determinate idee. Questi due elementi, diciamo così, anticipano in qualche modo una visione completamente nuova che è quella appunto dell'impressionismo, intanto perché la scuola di Barbizon comincia a prendere la pratica della pittura in plein air, quindi all'aperto, che sarà tipica dell'impressionismo, ma soprattutto perché i barbisogners non si interessano tanto di scegliere episodi che servano in qualche modo per la denuncia sociale, oppure di rappresentare la natura forzando i contenuti naturali per dare appunto, per rendere la sensazione, la passione dell'essere umano, di colui che vede, oltre che di colui che dipinge. No, la pittura di Barbizon rappresenta la natura così com'è, quindi si interessa degli effetti di luce, si interessa dello studio delle ombre colorate e questa sarà caratteristica tipica e particolare proprio dell'impressionismo, in questo caso vedete al centro un'immagine particolare di un dipinto di Monet dove appunto si ricercano questi effetti di luce senza dare importanza al soggetto in sé, ma dando importanza evidentemente, fondamentalmente alla forma. Ora, il romanticismo evidentemente con la sua centralità, diciamo, con la scelta di dare un'importanza fondamentale alla natura, per quanto non una natura sublime, una natura forzata per far passare l'idea del sentimento umano, però è chiaro che il romanticismo è stato fondamentale per l'avvio di questa ricerca dei barbisonniere, tant'è vero appunto che è una ricerca che si sviluppa proprio a partire dagli anni 30. C'è una differenza fondamentale però perché gli artisti di Barbizon, in particolare in questo caso vedete Jean-Baptiste Camille Corot, non si interessano appunto degli effetti transitori, non si interessano proprio degli effetti di luce, quello che vogliono non è utilizzare, diciamo, la natura o il paesaggio per veicolare altri messaggi, quello che gli interessa è proprio rappresentare il paesaggio così com'è, quindi le forme, la natura colta nella solidità della forma, in questo caso abbiamo delle masse architettoniche che mostrano proprio il loro volume, quindi la natura colta nella piena luce diurna, quindi sotto il sole, non con quegli effetti di barbagli, di luce fusiva, di ricerca appunto di riflessi che invece è tipica di tanta arte romantica. In questo caso io vi metto l'isola di San Bartolomeo di Corot, il vostro libro vi presenta la cattedrale di Chartres del 1830, il concetto è esattamente lo stesso, cioè una solidità nella ricerca pur sintetica delle figure che è qualcosa di straordinario. Tutto questo si sviluppa appunto a Barbizon, Barbizon era semplicemente una piccola località ai margini della foresta di Fontainebleau dove questo gruppo di pittori, un gruppo, un sodalizio spontaneo che soggiornava all'Auberge Gannet per una trentina d'anni si ritrova per difingere sul motivo, quindi è in plein air, ciò che vede direttamente. È interessante da tanti punti di vista, soprattutto dal punto di vista della ricchezza, della varietà di questi artisti perché faranno parte del gruppo dei Barbizonier non solo artisti romantici o post romantici ma anche artisti che poi saranno fondamentali in epoca di realismo, mi riferisco per esempio a Jean-François Amiglie, ma anche artisti che saranno protagonisti della stagione impressionista come Monet o come Renoir e artisti di varia provenienza geografica, per esempio possiamo fare l'esempio di Fontanesi, per esempio di Costa, due artisti che saranno fondamentali in Italia ma la loro crescita si dovrà anche all'incontro con artisti, con pittori che hanno fatto l'esperienza di Fontainebleau, di Barbizonier, senza questa esperienza non potremmo comprendere l'evoluzione di un artista come Fontanesi. Come mai questi artisti si spostano in campagna a dipingere? Ci sono anche motivi ovviamente meno romantici, potremmo dire meno ideologici, semplicemente c'è la possibilità di spostarsi molto bene nello sviluppo delle linee ferroviarie francesi, quindi possono andare e tornare dalla campagna per trovare questi luoghi ameni da rappresentare e poi ci sono i moti del 48 che spingono molti artisti a ritirarsi in campagna per trovare un luogo dove poter trovare tranquillità e dover esercitare la propria arte. Abbiamo proprio un minuto per parlare di quello che è il più interessante tra questi artisti, Jean-Baptiste Camille Corot, noi sappiamo che il caposcuola della scuola di Barbizon fu sicuramente Rousseau, abbiamo già visto Dobigny, potremmo vedere Dupré, Troillon, Della Pegna, ci sono tanti artisti Barbizonier, tutti di grande qualità. Questo è un artista interessante perché conduce una vita, diciamo così creativa a doppia, parallela, come si vede benissimo da queste due immagini del ponte di Narni. Corot si reca in Italia come tanti suoi connazionali, comincia a dipingere quando è già maturo, intorno ai 30 anni, si reca in Italia, rimane colpito ovviamente nel paesaggio italiano, comincia a rappresentarlo, però diciamo che invece di cimentarsi sulle grandi vedute classiche si mette a immortalare gli aspetti più marginali, più selvaggi, per esempio in questo caso un punterotto, una rovina. Però questo punterotto viene rappresentato in due modi diversi. Nel 1926 lui lo rappresenta come se fosse un abbozzo, nel 1927 presenta l'opera a un salon, per cui ci mostra un'opera che è più classica, più tradizionale, che dà più interesse, diciamo più attenzione alla composizione, dove ci sono delle figure di uomini e di donne, una sorta di pastorelleria, delle minuzie decorative, un'attenzione per il particolare, un trapasso luministico molto dolce. Dall'altra parte invece abbiamo una sintesi formale molto più virile, molto più potente, macchie sintetiche di colore che vengono accostate con accordi tonali equilibrati, ma molto possenti, molto virili, che non cedono niente alla grazia, diciamo, della pittura tradizionale. Questa è la caratteristica di Corot, che continuerà sempre a realizzare tutte le sue opere in questa doppia chiave. Una chiave per il pubblico, è quello che voi vedete alla vostra sinistra, una chiave per sé, che è quello che vedete alla vostra destra, che non sono i buzzetti, sono la sua vera interpretazione. Questo sarà importante per l'impressionismo, perché sarà proprio Corot, con questo tipo di pittura, a mostrare agli impressionisti la possibilità di vedere la natura in modo completamente diverso.